Sì, sono contento di aver ricevuto questo riconoscimento, sicuramente domani le porterò al campo, le regalerò allo staff e a qualche mio compagno. Come sta il Pescara Facundo in vista dei play-off? Bene, bene, siamo allenati anche ieri e anche stamattina, la squadra sta bene, stiamo recuperando anche i ragazzi che hanno avuto qualche acciacco, quindi con ansia che inizi questo play-off. Facundo, 19 gol in stagione e la stagione non è finita. No, sì, sì, voglio continuare da dove ho lasciato, con il mister Zemano ho fatto tanti gol e spero che i miei gol continuino a dare eventuali passaggi del turno anche in play-off. L'anno scorso siete stati eliminati, tu eri nell'Entella dal Palermo, Palermo poi ha vinto. Qualcuno dice che il Pescara potrebbe fare il percorso del Palermo? Sì, sì, loro anche come noi sono arrivati terzi, poi hanno avuto questo calore da parte del pubblico, questa forza di gruppo di andare avanti, hanno fatto bene le prime due partite, poi con noi hanno avuto qualche difficoltà, poi nell'ultimo si sono svegliati e niente, speriamo di ripetere poi come è andato a finire anche a loro. Ha fatto più gol di Ferrari rispetto all'anno scorso, vi siete sentiti tu e Franco? Sì, 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 l'ho superato qui a Pescara, lui quest'anno ne ha fatti come me, poi ha fatto qualche gol in più che l'ha fatto anche in Coppa Italia. Ma è vero che ti ha detto che ne ha fatti più lui per la Coppa? Sì, sì, ha detto che ha fatto più gol per la Coppa, però niente, adesso magari ci beccheremo i play-off. Ti chiedo l'ultima cosa, ti chiedo un avversario uno che temi particolarmente in questi play-off? Ma come ho detto, forse Cesena e Crotone sono quelle che secondo me partono favorite, però evitare, penso che alla fine se vorremmo vincere il campionato, comunque arrivare in finale, dovremmo affrontare tutti, quindi non abbiamo paura di chi ci possa capitare. A proposito, arriva Zeman, l'Escano fa una marea di gol, che cosa significa? Significa che mi sono messo a disposizione del Ministro, ho cercato e ancora oggi cerco di capire quello che vuole da me, davanti ovviamente si sa che col gioco di Zeman gli attaccanti sono aiutati e niente, spero di continuare dal mio contributo. Io l'Escano al pubblico di Pescara chiedo? No, niente di più e di meno di quello che ci hanno sempre dato quest'anno, è un pubblico comunque che essendo una piazza importante come Pescara pretende da noi i risultati e sicuramente io so che loro ci faranno un grande tifo ai play-off e ci daranno una grossa mano.